Trieste gioielli nascosti da non perdere, scopri la sua magia. Ecco alcuni posti da visitare durante le tue vacanze a Trieste. Prima di immergerti nel video, premi il pulsante iscriviti, e lasciami un mi piace, sai bene quanto sia importante per noi avere il tuo supporto. Continuiamo con il video. Piazza Unità d'Italia, la piazza principale di Trieste, una delle più grandi d'Europa affacciata sul mare. È circondata da eleganti palazzi e offre una vista mozzafiato. Castello di Miramare, situato su una scogliera a pochi chilometri dal centro città, il castello offre splendide vedute panoramiche sul golfo di Trieste. Puoi esplorare gli interni riccamente arredati e passeggiare nei suoi incantevoli giardini. Cattedrale di San Giusto, una maestosa cattedrale che si trova sulla collina di San Giusto. Puoi visitare l'interno della chiesa e salire sulla torre per goderti una vista panoramica sulla città. Museo Revoltella, un museo d'arte moderna e contemporanea che ospita una vasta collezione di opere italiane ed europee. È situato in un affascinante edificio storico e merita una visita per gli amanti dell'arte. Grotta Gigante, situata a pochi chilometri da Trieste, è la grotta carsica più grande del mondo aperta al pubblico. Puoi fare un tour guidato per esplorare le sue impressionanti formazioni rocciose. Canal Grande, un canale artificiale che attraversa il centro storico di Trieste. Puoi fare una passeggiata lungo le sue rive, ammirare gli edifici storici e goderti l'atmosfera suggestiva. Museo del Mare, museo d'arte orientale, un museo unico che combina la storia marittima di Trieste con una collezione di arte orientale. Puoi esplorare esposizioni interessanti e apprendere più sulla città e sulle sue connessioni culturali. Castello di San Giusto, situato sulla collina omonima, il castello offre una vista panoramica sulla città e ospita un museo archeologico. Puoi esplorare le antiche rovine e apprendere sulla storia di Trieste. Questi sono solo alcuni dei luoghi da visitare a Trieste. Assicurati di passeggiare lungo il lungomare, esplorare il quartiere di città vecchia e provare i piatti tipici della cucina triestina durante il tuo soggiorno. Museo Sartorio, situato in un affascinante palazzo neoclassico, il museo Sartorio ospita a una vasta collezione di abiti, accessori e oggetti d'arte del XIX e XX secolo. Puoi ammirare l'eleganza e lo stile di epoche passate mentre esplori le varie sale del museo. Grotta di Trebiciano, situata nelle vicinanze di Trieste, la Grotta di Trebiciano è un complesso carsico che offre un'esperienza unica agli amanti della natura. Puoi esplorare le meravigliose formazioni rocciose, stalattiti e stalagmiti all'interno della Grotta durante una visita guidata. Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio, se sei appassionato di treni e storia ferroviaria, il Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio è un luogo da non perdere. Il museo espone locomotive, vagoni e altri oggetti storici che raccontano la storia del trasporto su rotaia a Trieste e nella regione circostante. Grazie per aver guardato il video, se ti è piaciuto e vuoi vedere altri contenuti interessanti come questo, ti invito a iscriverti al canale per non perdere le prossime novità. Premi il pulsante iscriviti e attiva le notifiche per restare aggiornato, ti aspetto nella nostra family.